...arriva qua, qui a Digni è regolare per Sciaraui, e dico, lo so da subito che ha un segno di quella palla giusta per Perotti, che è un rigore in movimento, non può sbagliare. Secondo gol per Perotti, si è protestato per la posizione di Sciaraui, ma il gol è diretto a Digni, poi ha cominciato una nuova azione, il topo di Digni, per tutto il Sciaraui è in posizione regolare.